Architetto Calcagni, materiali compositi in FRP, quanto è importante per le responsabilità assunte dal professionista utilizzare tecnologie che abbiano ricevuto il certificato di donità tecnica all'impiego? Per noi è fondamentale perché i processi di esecuzione delle lavorazioni, noi dobbiamo partire da un livello di prodotto che ci dà già delle garanzie e che poi dopo noi conseguentemente dobbiamo verificare in cantiere successivamente con le prove, quindi diventa fondamentale partire già da una fase di un prodotto che ha a monte una serie di verifiche, ha delle certificazioni. Noi abbiamo iniziato a utilizzare i prodotti Fibronet da qualche anno, soprattutto in sostituzione di tecnologie tradizionali tipo l'utilizzo della rete in acciaio, utilizzando all'interno degli edifici la rete in fibra di vetro. Successivamente poi abbiamo sviluppato anche insieme in collaborazione con Fibronet altre tipologie di consolamento che hanno riguardato delle volte e soprattutto col sistema di reticola, visto che noi operiamo per lo più in restauro di edifici in muratura, per la conservazione delle cortine esterne. Quindi diciamo unendo il discorso della sicurezza con il discorso formale che è quello della salvaguardia dei valori architettonici dei centri storici. Quindi in quella maniera siamo riusciti a coniugare sicurezza e salvaguardia. Il fatto che Fibronet abbia portato avanti un'enorme attività di ricerca, che peso ha avuto nel conquistare la sua fiducia nei sistemi proposti? Abbastanza, perché poi noi abbiamo avuto anche la possibilità di avere diretto contatto con le strutture di Fibronet, soprattutto lo settore tecnico, perché spesso abbiamo posto delle problematiche e insieme abbiamo trovato delle risoluzioni. Nell'ambito della scelta del materiale più adatto nei nostri interventi abbiamo avuto un supporto che ci chiariva una serie di problematiche. E da questo punto di vista ci agevola nella scelta della tecnologia giusta per il particolare intervento che dobbiamo affrontare.